Allora il 24 dicembre come passerete la vigilia qui a Lierna? Il 24 dicembre abbiamo pensato di aspettare il giorno più bello dell'anno tutti insieme, piccoli e grandi, organizzando una serata all'insegna della tradizione e aspettando un personaggio un po' particolare, un po' magico. Oggi ci ha fatto una piccola sorpresa però lei tornerà il 24? Sì, sì, sarò presente, si guarda di fare ancora qualcosa di meglio. Dei portare i doni, dove si svolgerà questa serata e come possono partecipare i cittadini? Bene, ci sarà la Santa Messa la sera alle ore 9 e poi dopo verrà tutto conciliato nella piazza dove verrà dato dei doni ai bambini da Babbo Natale che arriverà con questo cavallo quindi sarà una novità per quest'anno e tutto lì. Poi ci sarà il fuoco, ci sarà tanto panettoni, spumante per stare un pochino insieme, farsi gli auguri e tutto lì. Che cosa vi augurate per il prossimo anno? Beh, ci auguriamo che le cose vadano un pochino meglio, senza esagerare perché qualcosa dei bisogni c'è sempre, però speriamo ci si può anche accontentare. Un po' di serenità e felicità.